Questa sera a San Siro l'Inter affronterà il Barcellona, queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Sicuramente è un momento importante per noi perché se andiamo a riavvolgere un po' il nastro ci accorgiamo che quando ci sono stati i sorteggi si era parlato di un girone molto molto difficile per l'Inter in virtù del Barcellona, del Dortmund e del Serra Praga che non dimentichiamo l'anno scorso aveva fatto anche molto bene in Europa League. Il fatto di essere arrivati all'ultima giornata, la possibilità di giocarci la qualificazione in casa contro una grandissima squadra contro il Barcellona ci deve dare grande soddisfazione, grande orgoglio, una partita importante. Appuntamento di Champions League questa sera per il Napoli di Carlo Ancelotti che affronterà il Genk. Ha sentito Ibra ultimamente? Ma domani li vedremo in campo è una domanda? Ma come ho detto sono le cose alle quali devo pensare in questi giorni, come ha detto di mettere in campo la formazione migliore e abbiamo due dubbi che sono legati alla presenza di all'anno di Milic e dopo di che si determinerà la formazione che inizierà. Ibra non l'ha sentito oggi, ieri sera si. SMS? No, l'ha sentito ieri sera. L'ha sentito ieri sera. Cronaca di Napoli? Che vi siete detti? No, ma ha detto che a Los Angeles che sta da Dio, c'era un clima perfetto. Mi chiamo grande. Ancora prima di giocare, Inter-Barcellona ha stabilito un record. Il match ha infatti conquistato il primato italiano per l'incasso più alto di sempre per una partita di calcio, superando il record precedente di 6,5 milioni di euro per Inter-Juventus, disputata lo scorso 6 ottobre. Ad assistere all'ultima partita del girone di Champions League, decisiva per il passaggio del turno dei Meneghini, ci saranno circa 72 mila spettatori, meno della capienza totale di San Siro. Il Meazza infatti non sarà tutto esaurito, in quanto i tifosi catalani, già certi del passaggio del turno, non saranno presenti in massa come in altre occasioni. L'incasso record deriva quindi dal fatto che i biglietti hanno un prezzo più alto rispetto al resto delle partite di campionato. Il Tottenham sulle orme di Calidou Koulibaly lo sostiene il media Eldesmark, secondo il quale Jose Mourinho vorrebbe portare in Premier League il difensore senegalese del Napoli. Attualmente il calciatore azzurro viene valutato 100 milioni con il club inglese che avrebbe già avviato la discussione con il presidente partenopeo De Laurentiis per intavolare una trattativa. Mourinho avrebbe individuato in Koulibaly l'uomo giusto per la difesa inglese, avendo già riscontrato delle carenze nel proprio organico. Il difensore però ha vari estimatori in Europa, tra cui anche il Real Madrid. Florentino Perez però sembra essere stato chiaro con Zidane non più di 75 milioni per un'operazione in difesa. Grazie a tutti.